Sono in compagnia di Igor Bojarsky, sacerdote ucraino, il nuovo cappellano della comunità qui. Auguro a tutti una buona preparazione al Natale e al nuovo anno, che sia una nuova speranza nel cuore, a vivere sempre e a caricare anche le altre vite di questa speranza di un migliore futuro. Questo vi auguro a tutti quanti nel nome del Signore.